E forse gli piace Vai, lanciala Vai, vai Bello Bravo, è contento Che c'è? Bravo Mi è piaciuta Bravo, dedo La posso prenderla? La posso prenderla? Posso? Ha capito come fa che la doverla Vai Ha capito, lo sai perché si è avvicinato e poi l'ha lasciata Vai, che cos'è? Perci la pallina Vai, lanciala di nuovo Che cos'è? Che cos'è? Vai L'ha lasciata? Sì, l'ha lasciata Non ha ancora capito, diciamo, del tutto Vabbè, non è proprio abituato a giocare Eh, ma guarda che già che l'era in corsa subito Infatti sì, perché la prima volta la guardava proprio a dire Ma che roba è? Perché l'altra volta ci giocavamo con Mia Sì No, si sta stancando No, si sta stancando, guardalo Eh, perché fa pure caldo Vediamo Allora, voglio provare col video Seduto Seduto Totò Seduto Bravo Bravissimo Bravo 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 Visto come è più delicato Ma lui è un signorino Seduto Seduto Totò Seduto Bravo Bravissimo Bravo 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 Mister Mister Ah, dice come è buono Come è buono Seduto Te lo do Seduto però Seduto Seduto Giuro che te lo do Seduto 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 Bravissimo Bravo Bravo Che c'è? Queste mosche danno fastidio, è vero? Queste brutte mosche Queste brutte mosche Tu vieni perché sei interessato Dici la verità Eh? Aspetta Ti sta seguendo Prova proprio a chiamarlo così Impara anche il nome Che vai? Totò Ehi, Totò Seduto Ecco facciati a chiamarlo Totò Vieni Totò Vieni Totò Vieni Guarda che c'ho Guarda Com'è buono Che c'è? Che c'è? Non abbiamo più niente Non è bere Fa caldo Le mosche Le mosche Fanno fastidio Che fanno queste mosche Che bello Che bello Che bello che sei Che c'è? Digestione di Wustel Ma guarda Si è messo No Non ho detto niente No Ebbè È stato il primo impatto Perché ho visto Già ho visto Come lo stava guardando No Però mi ricordo Che prima Lui aveva più timore Degli uomini Che c'è? Eh Queste mosche Danno fastidio È vero? Vieni un po' Qualche foto così Secondo me Puede sarebbe carina Fagliela col telefono Fai prima Che bello Bravo Tato Tieni Biscottino Tieni Con te gli odori Di cosa si tratta Tieni Sì eccolo Beh Deve si fa ancora bene Come misura Anche se Quello si allarga facilmente Perché si è allargato Si è cresciuto il collo Ma lo può mangiare un po' Andiamo Bravo Andiamo Andiamo Bravissimo 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 Eccolo Andiamo Andiamo La pipì Ah l'ha alzata la zampa Non lo pote terrace Anche se Burocchione Llamo Non le pote Anche se Qualche Anche se Si Al nyt Perché Quora Grazie a tutti